80 persone tratte in salvo in Valmasino, fiumi e torrenti in piena, smottamenti e allagamenti, effetti dell'ondata di maltempo che domenica ha raggiunto anche la provincia di Sondrio. Una trentina di interventi portati a termine dai Vigelfuoco, di Sondrio Morbegno, dai pompieri volontari di Tresivio, Ponte, Chiesi in Valmalenco, Talamona. Le squadre hanno operato senza sosta per contenere diversi allagamenti, per rimuovere alberi sradicati dal vento, per liberare i tratti di strada raggiunti dagli smottamenti. Di impatto le immagini postate su Facebook che mostrano la colata di fango e detriti caduta sulla strada provinciale della Valmalenco, fra località Prato e Torre di Santa Maria. La situazione più critica è quella della Valmasino, dove a causa di una frana è caduto un ponte sulla strada per Sasso Bisolo e circa 80 persone sono state soccorse e trasportate in zona sicura dai Vigelfuoco e dal soccorso alpino. Il ponte è stato spostato a valli di 30 metri, spiega il presidente della comunità montana di Morbegno Cristian Borromini, che domenica era sul posto con il presidente della provincia di Sonio, Luca Dallabita. Con loro gli amministratori e i tecnici della Valmasino, il sindaco di Ardenno, Laura Bonat. Borromini ha anche sorvolato in elicottero l'area interessata dalle frane. Ecco le immagini. Sotto il ponte erano collocati i tubi dell'acquedotto che serve a Ardenno. Sono stati tranciati. I tecnici di secca hanno realizzato un collegamento d'emergenza. A titolo precauzionale, in attesa dell'analisi, spiega il sindaco di Ardenno, Laura Bonat, fino a martedì 8 resta in bigordinanza su tutto il territorio comunale. L'acqua per usi domestici ad Ardenno deve essere bollita per 20 minuti prima dell'utilizzo. La strada per Sasso Bisolo resta chiusa, precisa il sindaco di Valmasino, Simone Songini, ma è stato realizzato un guado provvisorio per far rientrare a valle la trentina di veicoli bloccati a monte del ponte distrutto. Sistemato anche l'acquedotto, la parte danneggiata è stata infatti bypassata con un nuovo collegamento.